La difficoltà nel trovare questi incontri dal punto di vista del maschio diventa questa esplosione, questa rabbia di questo povero signore che si non riesce assolutamente ad avere incontri. E allora grida tutte le sue riflessioni in un sonnetto che si intitola piuttosto significativamente l'ordegno spregato. Pare un destino che il più meglio attrezzo che fece Gesù Cristo al padre Adamo ci avessi da costarsi il laddo bramo da strillaccio e caino per un pezzo. Questa non ce la dà se non sposavo, quella vuoi il prifo e non ce l'ho per prezzo, l'altra d'impesta e te fa verde in mezzo. E il curato sta lì sempre con l'amo, benedetta la sorte degli cani che si porno via quel po' di svario senza aiuto di burze e di ruffiani. E poi lo fotte in un confessionario che non l'aspetta come a noi cristiani sta fregna dell'inferno e del vigario.